Salve, benvenuti a questo approfondimento. Come vedete parliamo di un parere del garante per la protezione dei dati personali su un tema eh interessante che ci consente anche di fare un eh riepilogo di quella che è la capacità di intervento da parte del garante nell'ambito dei procedimenti di accesso. Siamo nell'accesso civico. Accesso civico come sapete decreto legislativo trentatré duemila tredici prevede che l'interessato possa fare eh richiesta a un'amministrazione di avere dati e informazioni diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria. Parliamo dell'accesso civico generalizzato. Ebbene la normativa prevede una particolare procedura cioè nell'ipotesi in cui l'interessato non sia soddisfatto della eh l'esito della richiesta di accesso civico che fa un'amministrazione che magari non gli consente di accedere a tutte le informazioni o a nessuna delle informazioni che richiede può fare richiesta di riesame. La richiesta di riesame si fa responsabile dell'anticorruzione che è sempre interno all' amministrazione. Quindi l'interessato fa domanda, l'ufficio nega, l'interessato chiede il riesame al responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, il quale al fine di valutare l'accoglibilità della domanda se riguarda dati personali, ha l'obbligo di chiedere il parere al garante per la privacy. Ecco come viene in rilievo il parere. Quindi non è un parere facoltativo, eventuale o voluttuario. È un parere che si inserisce in un procedimento specifico. A questo punto il garante esprime il parere al responsabile dell'anticorruzione che può decidere di osservarlo o di disattenderlo, nuoce gravemente alla salute, disattenderlo e si pronuncia in merito. Ecco perché è importante questa sequenza di pareri su istanza di accesso civico che il garante pubblica regolarmente e che danno una sorta di giurisprudenza in materia di accesso civico. Vediamo quello oggetto di questo commento. Il garante vista la richiesta di parere del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Sapienza Università di Roma, quindi siamo nell'ambito del responsabile anticorruzione di un'università, ma la stessa cosa vale per i comuni, per i ministeri, non cambia perché vedremo l'oggetto è trasversale e simile, premesso che nell'ambito relativo ad una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un accesso civico, quindi come vi ho detto l'interessato ha fatto richiesta al dipartimento X, Y e gli è stato negato l'accesso, quindi invece che ricorrere al TAR, cosa di cui ha diritto, fa istanza di riesame che è gratuita e quindi conviene sempre farla, dall'istruttoria risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico avente ad oggetto copia di tutti i titoli di studio di laurea e i master conseguiti da un soggetto particolare, identificato in atti, con puntuale descrizione dei corsi effettuati, degli anni accademici frequentati, dei titoli, delle tesi, delle relazioni presentate e delle votazioni finali ottenute. Quindi cos'è successo? Probabilmente questo che fa richiesta è il secondo arrivato di una procedura concorsuale, procedura concorsuale in cui il primo ha ottenuto dieci punti per titoli, lui ha ottenuto otto punti per titoli e vuol sapere come mai il primo, di cui fa nome e cognome, perché sa che è il vincitore, ha ottenuto questi punti e lo fa nell'ambito di una richiesta di accesso civico generalizzato. L'amministrazione ha negato l'accesso civico in quanto la formulazione della richiesta appare generica, tutti i titoli di laurea, di master, oddio, diciamo che non è che sono centomila, uno può avere due lauree, tre lauree, raramente di più, e i master, due master, tre master, e con finalità esplorativa, non essendo individuati specificamente quali e quanti atti sono oggetto di accesso. Inoltre, l'accesso al percorso curricula curricolare integrale viene rifiutato per evitare un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali riguardanti la carriera universitaria del controinteressato. L'amministrazione ha inoltre comunicato al soggetto istante la possibilità, in presenza di un interesse qualificato e dei presupposti di legge, di presentare richiesta motivata di accesso documentale. Su questo è il comportamento dell'amministrazione è stato coerente perché ha detto non ti posso dare accesso civico generalizzato se vuoi fammi domanda di accesso documentale perché non escludo che tu abbia un interesse diretto concreto attuale per avere quei documenti ma non li puoi avere nella forma dell'accesso civico perché come li do a te li potrei dare a chiunque altro e questo non è possibile perché la normativa sul accesso civico generalizzato prevede un limite. Il richiedente non ci sta e appunto chiede il riesame. Osserva il garante. A differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della legge 241 del 90, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di un'istanza di accesso civico diventano pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente di utilizzarli e riutilizzarli sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sulla privacy quindi dice quando mi viene fatta richiesta di accesso civico devo stare attento perché mentre nell'accesso documentale io do i documenti a Mario Rossi e Mario Rossi sa e deve sapere che sono riservati c'è il segreto su quelli non li può diffondere se io do gli stessi documenti in un'istanza di accesso civico per legge quei documenti diventano pubblici e quindi potrebbero essere oggetto di diffusione quindi non è detto che le due cose possano andare di pari passo di conseguenza è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto quindi il garante dice le esigenze di riservatezza sono legate anche alla possibile diffusione ex post della documentazione quindi non vanno valutate solo ex ante vanno valutate anche ex post in tale contesto occorre tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest'ultimi dalla conoscenza conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti cioè il ragionamento è quando un'amministrazione mi chiede un curriculum per partecipare a una prova di concorso io confido che rimanga riservato non ho idea che poi mi venga spiattellato da qualcun altro online questo è anche un richiamo del garante molto implicito ma indiretto all'informativa sul trattamento dei dati personali cioè le amministrazioni dovrebbero inserire nell'informativa la possibilità che in caso di accoglimento di accesso civico il curriculum possa essere visionato da terzi e possa essere oggetto di diffusione invitando gli interessati a mettere soltanto le informazioni essenziali perché tutto ciò che è ultronio potrebbe essere oggetto di diffusione alla luce di tali considerazioni quindi la premessa abbastanza evidente verso non vi spoil loro niente se dico che il garante a questo punto ne deduce che conformemente ai precedenti orientamenti del garante in materia di accesso civico ai titoli certificati universitari e curriculum in generale l'amministrazione universitaria ha correttamente respinto la l'istanza di accesso civico l'istanza di accesso documenti è volta a conoscere tutti i titoli di studio di laurea e master conseguiti dal soggetto contro interessato la descrizione di tutti i corsi effettuati con l'indicazione degli anni accademici il titolo delle tesi le relazioni presentate le votazioni finali si tratta non solo di dati anagrafici ma anche di notizie di carattere culturale e privato pensare soggetto che si è occupato di immigrazione si è occupato di comunismo si è occupato di teorie di genere di omosessualità quindi può essere idoneo indirettamente a rivelare le condizioni personali e non soltanto curriculari quindi un'integrale ostensione determina un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del contro interessato anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità per completezza ed ecco lo spunto che dà il garante che è interessante si ricorda che resta in ogni caso ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso civico possano essere resi ostensibili laddove il soggetto istante riformulando eventualmente l'istanza la presenti ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della 241 del 90 perché in presenza di un interesse diretto concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a quel punto la riservatezza potrebbe cedere il passo e quindi l'interessato che vuol far valere in giudizio l'eventuale illegittima valutazione dei titoli da parte della commissione potrebbe avere accesso a queste informazioni quindi una pronuncia abbastanza semplice ma che ci aiuta a comprendere le differenze fra l'accesso civico e l'accesso documentale i due titoli diversi ricordo che in questo caso correttamente il garante segnala come non era possibile per l'amministrazione convertire l'istanza di accesso civico in accesso documentale mentre è possibile viceversa sappiamo che il consiglio di stato ad un'anza plenare 10 2020 ha detto l'amministrazione in presenza di un'istanza di accesso non diversamente qualificata è tenuta a valutare se accoglibile da un altro punto di vista quindi se io faccio accesso ai documenti amministrativi e non ho i presupposti l'amministrazione deve valutare se è accoglibile come istanza di accesso civico generalizzato perché è semplice in quel caso perché io faccio istanza dimostrando un interesse diretto concreto attuale ci sono dei vincoli ma non ci sono ad esempio per l'accesso civico in questo caso non è possibile perché chi ha fatto domande di accesso civico non ha motivato e la mancanza di motivazione è ostativa l'accoglimento dell'accesso documentale quindi occorre eventualmente integrare l'istanza quindi cogliamo l'occasione di questa interessante pronuncia da parte del garante che vi metto a disposizione adesso vi do il link dove potete trovare questo materiale ed eventualmente scaricarlo e ce ne sono numerose altre utili approfondimento su questi temi io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione di formazione. Arrivederci.